Five T.O.F. Landi, Rossi, Di Martino, Archetti, Murgioni, Olivito, Burchielli, Frassinesi, La Croce, Castellana, Fortunato, Secola. Al. Ciampi. Reti. Murgioni 3, Frassinesi, Fortunato, La Croce. Primo successo stagionale per il Five T.U.Five in C2. I ragazzi di Ciampi lottano, soffrono, ma alla fine spugnano il campo del Monsummano. Il successo di Savà e compagni, privi dello squalificato Piacentini, è meritatissimo ed il risultato finale non fotografa esattamente la differenza dei valori messa in campo dalle due squadre. Stasera alle 22 ad Asciano il Five T.U.Five cercherà di sfatare il tabù casalingo ospitando il Trident Sport terzo due punti in classifica.